Nella cartella avete anche trovato questo foglio, questo plico, con la traduzione in lingua italiana della lettera di Papa Innocenzo I a Decenzio Vescovo di Guppio. Ecco, abbiamo ampiamente già più di qualche volta ascoltato, letto che è il 1600esimo anniversario di questa lettera che motiva questa nostra presenza qui a Guppio, che vuole celebrare in modo particolare questo anniversario con una serie di iniziative. Ecco, la settimana liturgica si inserisce anche dentro un contesto di un cammino di quest'anno, di questa Chiesa particolare, che fa memoria di questo documento. Non tanto come ci è stato ricordato anche dal saluto di Monsignor Mario Ceccobelli, per fare commemorazione del passato, quanto per coglierne l'attualità di oggi. Se vi capita di dare una scorsa al testo, vi accorgete che alcune questioni sono anche questioni che sono ritornate in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, per esempio, dove collocare lo scambio del bacio di pace, del segno di pace, dove collocare o se collocare dentro la celebrazione la menzione dei nomi degli offerenti e via di segno, il problema della crescima e i sacramenti, e in modo particolare c'è anche il tema della riconciliazione, allora la riconciliazione dei penitenti nel quadro della penitenza pubblica il giovedì santo, ma anche come comportarsi con chi aveva esigenza o per imminente mortalità o per altro di essere riconciliato prima. Ecco, un quadro, una presentazione di questo scritto e del suo influsso che ha avuto nella liturgia, nella formazione stessa lungo i secoli della liturgia romana. Il Vescovo Ceccobelli ci ricordava come da lettera a un certo punto è stato accolto come decretale ed è stato determinante per la formazione della liturgia per alcuni punti particolari. E tra l'altro, se volete una curiosità, neppure la riforma liturgica ultima è sfuggita a questo fascino che se voi prendete le rubriche del venerdì santo c'è pari pari una frase di questo documento «Ist obituo ecclesia sacramenta penitus non celebrat». In questi giorni la Chiesa non celebra affatto sacramenti. Ecco la giorni liturgici appunto del venerdì e del sabato, cioè non si celebra l'Eucaristia. A presentarci questo testo e questo influsso che ha avuto nel corso dei secoli, questa sua importanza, sarà proprio il nostro Don Matteo, Don Matteo Monfrinotti, il quale non è solo il Solerte in organizzatore, lo ringraziamo per questo, per tutto quello che ha compiuto e sta compiendo perché questa settimana riesca nel migliore dei modi, ma non solo è l'anima anche delle iniziative che si stanno portando avanti in questa diogesi per commemorare questi 1600 anni, ma è anche studioso di patologia. Infatti lui, ordinato nel 2007, ha completato poi gli studi teologici presso l'Istituto Patristico Agustinianum di Roma. E non solo, ma insegna anche storie delle segesi patristiche e discipline sulla spiritualità monastica nella Facoltà di Teologia dell'Ateneo San D'Anselmo. E poi naturalmente insegna anche qui all'Istituto dell'Umbria, l'Istituto Teologico di Assisi. Tra le altre cose, lui è stato l'anima del convegno anche scientifico, che il 18 marzo scorso è stato celebrato a San D'Anselmo, un convegno internazionale, in cui sono intervenuti studiosi non solo dell'Italia, dell'Europa, ma anche dell'America, e sta curando anche una edizione critica di questo testo. Quindi penso che potrà veramente introdurci nel significato, nell'importanza e anche nei contenuti di questo imprescindibile documento per tutti gli studiosi della liturgia romana. Ecco per cui gli cedo volentieri la parola. Grazie a Matteo. La mia prima parola è un sincero grazie per essere stato chiamato a intervenire in questa seconda giornata della Settimana Liturgica Nazionale per presentare il documento la cui festa millenaria, come è stato già ricordato, ha spinto il Calla a scegliere come sede della settimana la città di Gubbio. Lo scritto della decretale di Papa Innocenzo, redatto in forma epistolare, la lettera 25 dell'Epistolario, ha un valore letterario e documentario significativo, forma, fonte che attesta il rapporto tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Gubbio nei primi decenni del V secolo. Ma non ci troviamo di fronte solo a una pagina di antica letteratura cristiana o di storia antica, il cui pregio è per così dire d'antiquariato, ma di fronte a un messaggio che, seppure occasionato da questioni di carattere essenzialmente liturgico, è volto a confermare anzitutto la necessità di unità e concordia che deve realizzarsi tra tutte le Chiese locali, come appunto la Chiesa di Gubbio e la Chiesa Madre per eccellenza, che è la Chiesa di Roma, la Chiesa di Pietro, la Chiesa di origine. Leggendo il testo si prende progressivamente atto di come le risposte di Papa Innocenzo non sono finalizzate unicamente alla soluzione delle questioni mosse dal Vescovo di Gubbio d'Escenzio, ma volte a stabilire il principio di base. Innocenzo non ha solo come desiderio quello di presentare, indicare dei precetti da rispettare, ma vuole attraverso questo scritto comunicare, indicare un principio fondamentale secondo il quale operare. La prassi liturgica deve essere testimonianza del convergere della Chiesa locale verso la Chiesa di Roma perché si possa parlare di unità ecclesiale. In altre parole, non è tanto la modalità della prassi liturgica quella che più conta, ma la sua giustificazione, cioè il principio unitivo in base al quale viene legittimata. La decretale, nella sua struttura assolutamente lineare e di stile di legiferazione, è costituita da otto paragrafi corrispondenti alle otto questioni di carattere liturgico e sacramentale per le quali il Vescovo d'Escenzio ritenne doversi appellare al Papa. Le elenco velocemente il segno della pace, i nomi di chi porta le offerte, i fanciulli da cresimare, il digiuno del sabato, il frammento di pane lievitato, l'imposizione delle mani ai battezzati che hanno peccato, i penitenti che hanno commesso peccati gravi e infine l'unzione del malato. Il Vescovo di Gubbio, infatti, aveva registrato all'interno della Chiesa a cui era preposto una difformità di comportamento da parte dei presbiteri e degli altri pastori, sintomo di un individualismo che a sua volta era presupposto di allontanamento e di divisione. Sente quindi l'esigenza, il Vescovo d'Escenzio sente l'esigenza di chiedere il parere del Papa su come risolvere il problema di queste differenze. A ciascuna domanda, Innocenzo risponde con una disposizione, con un decreto, da cui appunto il nome è decretale. La pace sia scambiata dopo la consacrazione, i nomi di chi porta le offerte saranno declamati dopo l'offerta, i bambini saranno cresimati dal Vescovo, anche il sabato e giorno di digiuno come il venerdì, il pane consacrato è inviato alle chiese urbane, il Vescovo autorizza l'imposizione dei mani sui posseduti, la riconciliazione dei penitenti il giovedì santo, tutti possono dare l'unzione ai malati usando il crisma consacrato dal Vescovo. Queste sono le risposte di Innocenzo al Vescovo d'Escenzio. Non entro però nel dettaglio delle singole risposte, quanto piuttosto del principio fondamentale che le accomuna e che è pronunciato con indiscussa autorevolezza, soprattutto nella premessa quale trapela anche l'amara costatazione di una riprovevole arbitrarietà nella prassi liturgica da parte dei ministri. La lettera è sostanzialmente paragonabile a un quadro perfetto perché presenta una cornice l'inizio e la fine e all'interno Papa Innocenzo presenta i suoi provvedimenti, le sue indicazioni. Proprio, e io mi soffermerò sulla premessa e sulla conclusione, proprio nella premessa viene consegnata infatti la chiave di lettura delle risposte e al tempo stesso la giustificazione dell'indispensabile concordia tra la Chiesa Madre di Roma e le altre Chiese. Il Papa, per motivare l'adempimento delle sue disposizioni, premette un principio fondamentale o più esattamente ribadisce un postulato da cui non si può prescindere. E proprio nel dettare le ragioni della concordia assigurava allo scritto quel carattere dogmatico che lo rende ancora attuale. Sicché il documento non può e non deve essere relegato nel tempo lontano e negli archivi di una storia antica, ma merita di essere riconsiderato anche al presente e permanere nella storia di oggi. Brevemente, velocemente, mi soffermo sulla premessa. In questa prima parte, Innocenzo stabilisce immediatamente, senza alcuna riserva e senza concedere eccezioni, il principio universale e fondante da cui muove l'osservanza delle disposizioni. Così scrive Innocenzo. Nella sciopera avete trovato anche il testo della lettera. Se i sacerdoti del Signore volessero mantenere integre le istituzioni della Chiesa, come ci sono tramandate dai beati apostoli, non si avrebbe nessuna diversità e nessuna variazione all'interno degli stessi ordini e consacrazioni. Ma dal momento che ciascuno ritiene che debba essere seguito non quello che è stato tramandato, ma quello che gli pare, qui emerge l'individualismo che Innocenzo, che De Cenzio ha denunciato e che Innocenzo ha costata, di conseguenza succede che cose diverse sono osservate o celebrate in altrettanto differenti chiese e luoghi. E si verifica uno scandalo, per il popolo, che mentre ignora che le tradizioni antiche sono corrotte dall'umana presunzione, ritiene che le chiese non siano in accordo tra di loro oppure che la discordanza sia stata introdotta dagli apostoli o dai seguaci degli apostoli. Il popolo di Dio è evidentemente ignaro del fatto che quelle divergenze liturgiche sono frutto della mentalità relativista e individualista del pastore. Chi infatti ignora o non sa che quanto è stato tramandato da Pietro, principe degli apostoli, nella Chiesa di Roma, non abbia una certa autorità o al contrario ritenga che si debba prendere esempio da altra parte, soprattutto perché è palese che in tutta l'Italia, le Gallie, le Spagne, l'Africa e la Sicilia e nelle isole frapposte, nessuno ha fondato una chiesa eccetto coloro che il venerabile apostolo Pietro o i suoi successori hanno costituito sacerdoti. Altrettanto dicano se quelle province sia capitato un altro degli apostoli oppure si tramandi che vi abbia insegnato. Qui evidentemente Innocenzo sta dicendo tutte le chiese sono state fondate dagli apostoli, secondo la sua ovviamente lettura storica, sono state fondate dagli apostoli inviati da Pietro nelle diverse parti, nelle diverse regioni dell'Europa. Conclude questa premessa Innocenzo e se non lo dicono, quindi se qualcuno pensa che alcune chiese locali sono state fondate dagli apostoli, da altri apostoli, da altri pastori, dice se non lo dicono, poiché mai lo hanno trovato, cioè non hanno prova che quelle chiese sono state fondate da altri apostoli non inviati da Pietro, è necessario che rispettino quello che la Chiesa di Roma custodisce dalla quale non c'è dubbio che essi abbiano tratto principio. E poi il testo prosegue con le indicazioni di carattere liturgico. Segue, adesso corriamo, nella parte finale del testo, nella parte finale dove il Papa si rivolge a Desenzio con queste parole. È pur vero che spesso la tua carità, qui è il termine caritas, con il quale Innocenzo è un termine di Lexio, scusate, è il termine di Lexio, è il termine con il quale Papa Innocenzo si rivolge al Vescovo di Gubbio Desenzio. È un termine che noi troviamo anche in Agostino, nelle lettere di Agostino. di Lexio era un titolo che veneva rivolto al destinatario dello scritto in segno ovviamente di stima e di venerazione. Dice, pur vero che spesso la tua carità è venuta a Roma e ti sei unito a noi nella Chiesa, hai preso atto della prassi liturgica sia nel consacrare i sacramenti sia negli altri liti, riti legati ai misteri. E noi siamo certi che ciò sia abbastanza sufficiente per informare la tua Chiesa o per riformarla qualora i tuoi predecessori non abbiano rispettato l'una o l'altra cosa, se non che tu hai ritenuto che noi dovessimo essere consultati su alcuni punti. Qua fa riferimento il Vescovo, il Papa Innocenzo, fa riferimento a dei predecessori di Desenzo, segno dell'antichità della Chiesa Ugubina. riguardo ai quali rispondiamo non perché crediamo che tu ignori alcune cose, ma affinché con maggiore autorità tu possa formare i tuoi. Oppure, se alcuni deviano dalle istituzioni della Chiesa romana, ammonirli oppure senza esitazione, tu possa segnararli affinché noi siamo in grado di conoscere chi sono quelli che introducono novità o che ritengono debba essere osservata la consuetudine di un'altra Chiesa anziché quella romana. La decretale, quindi, fin dalle prime righe, quelle appunto introduttive, manifesta esplicita contestazione e altrettanto esplicito dissenso nei confronti di quei sacerdoti quali non vogliono mantenere integre le istituzioni della Chiesa come sono state tramandate dai beati apostoli ma deliberatamente si allontanano dalla tradizione per applicare una prassi arbitraria. Ciascuno ritiene, dice innocenzo, che debba essere seguito non quello che è stato tramandato ma quello che gli pare. Ora, tale comportamento arbitrario non può essere né tollerato né approvato. Il Papa invita Decenzio ad ammonire e addirittura segnalare senza esitazione coloro che si comportano affinché possa essere informato su quelli che introducono novità o che ritengono debba essere osservata la consuetudine di un'altra Chiesa anziché quella romana. Siamo in un tempo in cui la Chiesa di Roma sta affermando la sua autorità nel resto del diciamo nella regione principalmente del centro Italia. Nello stesso tempo però altre Chiese ad esempio la Chiesa Ambrosiana anche stende la sua influenza sulla parte diciamo dell'attuale Emilia Romagna evidentemente degli influssi liturgici ambrosiani sono penetrati anche nella regione del centro Italia e questo ovviamente viene visto con preoccupazione dall'autorità romana. Un incoraggiamento alla denuncia quello di innocenzo che esula qui dobbiamo stare attenti che esula da un autoritarismo in senso deteriore perché il fine non è tanto quello di individuare e punire il sacerdote che introduce la forma nuova dal punto di vista liturgico e che agisce secondo criteri ideati da lui stesso ma soprattutto quello l'obiettivo di innocenzo e della denuncia che lui propone è quello di tutelare il popolo affinché i fedeli non siano disorientati nella fede ecclesiale scrive innocenzo si verifica uno scandalo per il popolo che mentre ignora che le tradizioni antiche sono corrotte dall'umana presunzione ritiene che le chiese non siano in accordo tra di loro oppure che la discordanza sia stata introdotta dagli apostoli o dagli stessi seguaci degli apostoli in altre parole la chiesa di Roma è la chiesa da cui scaturisce la tradizione grazie all'operato evangelizzatore di Pietro si afferma così chiesa princeps per l'occidente così come princeps apostolorum era Pietro grazie a quella vocazione mandato voluta e realizzata da Cristo fondatore della chiesa universale pertanto distacco dalla tradizione romana significa anche distacco dalla chiesa di Roma significa ledere il principio dell'unità e dell'unione voluta da Cristo prima ancora che da Pietro significa avviare un processo di separazione e di divisione di conseguenza la novità introdotta non è solo trasgressione da parte di uno o più ministri e il problema non è confinato solo al comportamento di alcuni o di molti ma quel che è peggio si trasforma in grave danno per la comunità dei fedeli i quali di fronte a prassi differenti e a consuetudini diverse sia nell'amministrazione dei sacramenti sia in altre forme di culto potrebbero attribuire tale diversità non all'inosservanza del singolo che distaccandosi volutamente dalla tradizione la stravolta ma agli stessi apostoli in altre parole il popolo ovvero la comunità dei fedeli nella sua ignoranza e nella sua ingenuità ma qui potremmo dire anche nella naturale predisposizione di fiducia riposta nei presbiteri e nei vescovi potrebbe non rendersi conto che nella chiesa a cui appartiene quelle novità significano tradire la tradizione la quale invece deve essere rispettata e garantita sulla base di uno statuto che applicato da Pietro per primo è a lui consegnato da Cristo stesso ragione prima della unità ecclesiale la quale si rispecchia anche nella consonanza sacramentale nella sostanza così come nella forma non solo il popolo potrebbe ritenere addirittura che la difformità sia lecita potrebbe persino attribuire agli stessi apostoli la non sintonia e ritenere che l'unità ecclesiale e la fedeltà alla tradizione non sia né un principio costitutivo della Chiesa né vincolante i fedeli potrebbero dunque essere fuorviati e subire quello che Innocenzo a ragione veduta definisce come scandalo da accogliere qui nel senso proprio del termine cioè dell'ostacolo ovvero dell'impedimento alla retta fede di staccarsi dalla tradizione che grazie all'evangelizzazione e all'apostolato di Pietro ha avuto origine da Roma che è stata difesa e mantenuta nei secoli per Innocenzo significa un dissenso tale da porre le basi per uno smembramento significa disgregare quell'edificio Chiesa che era stato da Cristo fondato su un'unica pietra la quale come il termine scandalo usato da Innocenzo consente dedurre diverrebbe paradossalmente ma non virtualmente pietra d'inciampo a causa di coloro che infrangano la tradizione in verità e qui mi sia permessa una riflessione esegetica che ritengo possa conciliarsi con il pensiero e il dettato di Innocenzo la pietra su cui Cristo fonda la Chiesa secondo le parole di Gesù in Matteo 16 18 è Pietro il significato della metafora e l'analogia Pietro Pietra non sono posti in questione ma non si sottolinea mai abbastanza che quella pietra che è Pietro è una sola la quale nell'essere unica doveva essere anche unificante e doveva significare e garantire l'unità della Chiesa universale costituita dalle tante Chiese locali le quali nate dall'evangelizzazione nei diversi luoghi e nelle diverse regioni proprio nell'essere unite avrebbe formato la Chiesa universale di fatto alla luce del principio di unità intesa come unione concordia consonanza si comprende il valore di una liturgia che nelle parole e nei gesti sia compiuta all'unisono il che non significa clonazione ma con senso unanime della Chiesa locale del Vescovo che la rappresenta e del clero che ne fa parte alla Chiesa Madre per eccellenza la cui tradizione cementa la stessa Chiesa di Roma con le altre Chiese non sappiamo se anche il Vescovo di Gubbio abbia avvertito e fino a che punto lo scandalo della differenza e la gravità dell'arbitrarietà liturgica allo stesso modo in cui l'avverte Papa Innocenzo sta di fatto che il Papa nel rispondere e prima ancora di disciplinare la prassi liturgica sente la necessità di affermare e ribadire il vincolo della tradizione torna a stabilire quel postulato che conferisce valore e attualità al documento da lui firmato la voce di Innocenzo è autorevole e al tempo stesso intrigante le sue affermazioni sono categoriche il tono sovente severo ma a renderle tali non è il suo essere Papa quanto l'autorità di una tradizione che risale alle origini e che non è solo costume ma trasmissione di un deposito di fede che si riflette e si manifesta anche nell'azione liturgica la quale in certo senso si può considerare il linguaggio visibile e tangibile della fede della presenza dello spirito della dispensazione della grazia deposito che va custodito e preservato affinché non venga corrotto è questa infatti la raccomandazione finale del Papa Innocenzo a Decenzio fratello carissimo così scrive abbiamo provveduto a rispondere come abbiamo potuto a tutte le questioni che la tua carità ha voluto fossero esposte affinché la tua chiesa sia in grado di conservare e custodire la tradizione romana dalla quale trae origine le altre cose che non era opportuno mettere per iscritto le potremo dire una volta che verrai e che saremo interrogati sarà potenza del Signore questa chiusura è bellissima perché è anche commovente perché qui l'autorità del Papa si rimette alla grazia del Signore che guida le coscienze dei ministri sarà potenza del Signore anche fare in modo che la tua chiesa e i nostri chierici che prestano servizio negli uffici divini sotto il tuo episcopato tu bene li istruisca e possa mostrare agli altri il modello che devono imitare Innocenzo chiude la decretale confidando nell'operato di decenzio guidato dalla grazia e assicurandogli quasi pronunciamento profetico che nel ricondurre la propria chiesa e i propri chierici alla chiesa di Roma e alla tradizione di cui è sorgente si manifesterà la potenza di Dio il Vescovo di Gubbio come del resto ogni Vescovo è il braccio di quella potenza mentre l'autorità e la forza necessaria a tale operato sono di Dio e da Dio derivano il Papa come la decretale dimostra si colloca egli stesso per primo nel solco della tradizione e la rispetta e la rappresenta si rivela apologeta dell'unità ecclesiale sulle orme di un messaggio proclamato fin dalle più antiche testimonianze mi riferisco in particolare a Ignazio Vescovo di Antiochia martirizzato a Roma durante il Principato di Traiano siamo tra il 98 e il 117 probabilmente Ignazio fu martirizzato nel primo decennio del secondo secolo egli Ignazio è il primo a essere definito come dottore dell'unità perché raccomanda attraverso le sue lettere raccomanda all'interno della Chiesa una sintonia pari a quella delle corde della cetra e tutti sanno che lo strumento non suona in modo melodioso ma stridente se le corde non sono accordate sulla corda di riferimento in analogia non sarà mai sinfonico il volto della Chiesa se le comunità ecclesiali non saranno raccordate sulla Chiesa di Roma che sono le parole di Ignazio presiede anzitutto alla carità per Ignazio come per innocenzo trascurare il fondamento della tradizione non operare in conformità significa negare il principio di fondazione e il mandato di Cristo viceversa osservare il modello dovere primo dello stesso Papa significa garantire una sintonia che rende ragione del titolo di Chiesa unica e universale presieduta diretta e guidata dalla Chiesa romana e soprattutto che rende ragione dell'essere tralci di un'unica vite membra di un unico corpo ecco perché osservare il modello non è asservimento ma condivisione non è sottomissione ma comunione non è vassallaggio ma consenso non è apatica esecuzione ma corresponsabilità perché l'unità nasce concertata e sinfonica sull'unità del Signore Dio e della sua Signoria un solo Dio una sola fede un solo pastore un solo gregge una sola pietra una sola Chiesa è questa carissimi amici è questa l'attualità della decretale scritta 1600 anni or sono questo è il valore di un messaggio che merita memoria e celebrazione mentre chiede anche adempimento e auspica ancora oggi che in ogni Chiesa locale e quindi nella Chiesa universale cioè cattolica nel significato primo e primario del termine si confermi lo statuto cristologico dell'unità affinché si possa realizzare ogni giorno la dinamica trasformazione del principio di unione in quello di comunione affinché vita e sacramento siano l'unico volto dell'unica Chiesa grazie 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 don Matteo veramente importante questa presentazione della della lettera delle istanze che animano sia Papa Innocenzo sia il Vescovo Decenze nelle questioni poste e nelle risposte nella risposta data e credo che ci aiuta a collocarci meglio anche in questo perché della scelta di Guppio e quindi probabilmente Guppio possiamo dire anche dopo 1600 anni ci parla ancora ci parla di questa unità tema che è venuto fuori in questa giornata diciamo in entrambe le relazioni con la misericordia come comunione un po' di pazienza ancora prima di incamminarci verso la taverna del lupo per una parola sui gruppi di studio che occuperanno praticamente il pomeriggio e quindi innanzitutto avrete notato che abbiamo posto nell'organizzazione nella progettazione di questa settimana sono stati posti i gruppi di studio quindi questo lavoro intenso che vi viene chiesto non nel penultimo giorno nel pomeriggio prima dell'ultima mattinata ma nel cuore nel centro stesso di questa settimana in questo pomeriggio e questo per ribadire perché fosse visibile e anche concretamente operativo il valore di questo apporto che viene chiesto a tutti i settimanalisti cioè non è da considerare così come un momento di cui poi ecco non si tiene conto anzi è un apporto importante è un apporto necessario è un apporto richiesto che chiaramente avrà la sua valorizzazione il tema riconciliati per riconciliare nei gruppi di studio viene coniugato con un interrogativo quale misericordia e quale riconciliazione più urgenti oggi e che è uno sguardo sulla nostra realtà sulla nostra realtà umana sociale ma anche ecclesiale e ci si è concentrati su quattro contesti quattro ambiti per individuare non solo le urgenze di misericordia e di riconciliazione ma e questo dovrebbe essere anche il vostro prezioso apporto quali cammini quali strade aprire per rendere più effettiva per rendere più operativa appunto questa riconciliazione nei suddetti contesti quale può essere il nostro apporto ecco i contesti li avete qui presenti nel programma sono la famiglia sono la comunità parrocchiale la vita e il mondo e poi infine anche il contesto delle confessioni cristiane e delle altre religioni quindi il rapporto dell'ambito ecumenico guideranno i gruppi con una breve introduzione presentazione del tema ma anche con delle domande lungo le quali incamminare il vostro apporto questi quattro confratelli tre sacerdoti e un diacono Don Bernardino Giordano che parroco della parrocchia di San D'Agostino nella diocesi di Saluzzo laureato in economia e commercio e poi ha conseguito il dottorato in teologia pastorale presso l'alfonsiano a Roma insegna morale a Torino presso il corso di licenza di teologia morale sociale e a Fossano presso l'istituto di scienze religiose direttore della pastorale familiare docesana e referente della regione Piemonte e anche coordinatore del programma Retrouvei e ha lavorato per un triennio anche presso gli uffici centrali della CEI a Roma quindi ecco è una persona che può veramente dare molto nel guidare questo questo gruppo perché si presenta con un ottimo accreditamento ecco anche Don Elvio Nocera presbitero della diocesi di Oppitum Mamertina Palmi che guiderà il gruppo quale misericordia e quale riconciliazione più urgente nella comunità parrocchiale è direttore dell'ufficio liturgico diocesano e parroco di Maria Santissima Immacolata in Polistena quindi la diocesi di Oppido Mamertina Palmi ma anche lui ex alunno di Sant'Anselmo dove ha concluso il ciclo di licenza con uno studio su Mariano Magrassi ed è in cammino verso il dottorato e da quest'anno è docente anche di liturgia presso l'Istituto Teologico Calabro di Catanzaro ecco prende il posto di un altro alunno di Sant'Anselmo che è diventato arcivesco di Matera nel mese di maggio scorso ha pubblicato vari articoli anche sulla nostra rivista liturgia ed è assiduo settimanalista quindi lo conoscete molti di voi lo conoscono molto bene quindi accreditato ottimamente come accreditato ottimamente anche Don Francesco Zenna teologo liturgista della diocesi di Chioggia ha compiuto studi diciamo di liturgia presso l'Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina di Padova e anche lui di Teologia Morale presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settendrionale scusate a Milano e ha insegnato all'Istituto di Liturgia Pastorale di Padova e all'Istituto di Scienze Religiose di Padova è vicario generale della diocesi di Chioggia dove precedentemente ha svolto il Ministero di Arciprete della Cattedrale il Rettore del Seminario quindi ha tutte le competenze per aiutare in questa riflessione sulla riconciliazione o quale riconciliazione nel rapporto Chiesa con la vita e con il mondo e con l'ambito stesso dell'esperienza quotidiana quindi tutte le problematiche inerenti al vivere nostro contemporaneo e poi il diacono dottore Vincenzo Petrolino conosciamo tutti Enzo Petrolino sposo felice padre di tre figlie diacono permanente della diocesi di Reggio Calabria Bova presidente dell'associazione comunità del diaconato in Italia quindi anche poi entra nella redazione della omonima rivista ha curato l'edizione dell'Inchiridion sul diaconato le fonti e i documenti ufficiali della Chiesa edito dalla libreria editrice vaticana nel 2009 e poi sempre con la lev con l'editrice vaticana ha pubblicato nel 2013 il volume concilio vaticano secondo e il diacono la Chiesa al Ministero di Comunione e Servizio oltre naturalmente numerose pubblicazioni anche nelle varie riviste è membro del Consiglio Direttivo del Cal e come tale anche membro del Comitato della Redazione della rivista Liturgia e quindi persone che potranno guidarle l'apporto ma è importante la vostra riflessione la vostra presa di parole nei gruppi in modo da far venire fuori appunto queste esigenze e anche i percorsi di riconciliazione in questi ambiti e darei adesso la parola dopo che si è un po' siamo respirati un poco di nuovo a Don Matteo invece per tutte le indicazioni tecniche circa la realizzazione logistica e operativa dei gruppi di studio brevemente invito ad utilizzare la mappa che ognuno di voi ha a disposizione dove sono indicati i posti più significativi importanti per noi della città di Gubbio e il numero 5 riporta l'indicazione biblioteca sperelliana lavori di gruppo quindi noi ci ritroveremo alle ore 16 direttamente alla biblioteca entrando alla biblioteca ognuno di voi raggiungerà ci saranno dei volontari che vi indicheranno la collocazione dei diversi gruppi e ognuno di voi raggiungerà quel gruppo e si posizionerà nel sottogruppo di riferimento sul memorandum che vi è stato consegnato avete il gruppo ad esempio a 1 a 2 a 3 e alla biblioteca sperelliana troverete la vostra postazione e sarete accompagnati dal moderatore di tutti i gruppi e da un facilitatore chi di voi è stato a Firenze sa benissimo come abbiamo lavorato nei gruppi di studio e così cercheremo di fare anche durante questa nostra settimana e altre indicazioni per la giornata di oggi sono la celebrazione alle 18 e 30 presso la chiesa di San Pietro che è vicina è proprio sotto la biblioteca sperelliana quindi non ci sono movimenti da fare e per i sacerdoti ricordo di portare il camice e la stola utilizzeremo tutti la stola bianca che è stata consegnata ai sacerdoti nel momento in cui hanno ritirato la shopper in modo tale che ci sia uniformità questa sera invece presso la chiesa di San Domenico ci sarà lo spettacolo teatrale al tramonto le allodole del gruppo teatrale giovanile Carlo Nardelli e quindi l'appuntamento è alle ore 16 il primo appuntamento alle ore 16 presso la biblioteca sperelliana un'ultimissima indicazione riguarda ce la dà Daniele in merito alla comunicazione della nostra settimana liturgica sì brevissimamente solo per dire che molti di voi hanno chiesto dove trovare i materiali relazioni scritte piuttosto che audiovisivi piuttosto che fotografie attraverso il dominio il portale della settimana liturgica cioè www.67 settimanaliturgica punto it che trovate ovunque anche nel nel Deplian sarà possibile appunto arrivare stiamo caricando già in questi in questi momenti tutti i materiali sarà possibile arrivare sia ai testi integrali scritti di chi ovviamente ce li fornisce o lo ha scritto perché ad esempio stamattina c'è stata anche una relazione a braccio però di tutto sarà possibile trovare anche attraverso il sito verso il canale youtube della diocesi di Gubbio i video integrali di tutti i momenti quelli delle celebrazioni quindi con le omelie e quelli delle relazioni in più trovate sempre attraverso il sito delle foto in una galleria che viene alimentata continuamente per chi di voi ha bisogno di condividerla sui social piuttosto che utilizzarla per la rivista della diocesi o altri mezzi di comunicazione quindi attraverso il sito della settimana potete trovare tutte le risorse disponibili da ora in avanti insomma grazie prima di uscire volevo ingaggiandomi a questo ricordarvi nella cartella trovate anche la scheda per la prenotazione degli atti di questa settimana per chi vuole chi desidera avere il testo scritto quindi stampato come ogni anno vengono stampati gli atti può prenotarlo poi naturalmente gli atti arriveranno a casa spediti dal CLV dal centro liturgico vincenziano che è la casa editrice quindi pagherete poi vi diranno le modalità con cui pagare il volume degli atti ma si può fare appunto la prenotazione adesso in modo che poi passeremo alla CLV i vostri riferimenti per farvi arrivare gli atti a casa per quanto riguarda invece gli atti delle settimane precedenti se passate per la postazione del CAL a fianco alla segreteria potete vedere i vari volumi e quelli che vi interessano potete comprarli ecco pagandoli direttamente lì al ragazzo che è presente il Vescovo scusate il Vescovo Mario mi ricordava la chiesa di San Domenico è ovviamente questa quindi stasera lo spettacolo sarà qui ma la mappa vi guida su tutto la mappa della città con l'angelus e poi ci avviamo verso la taverna del lupo grazie per l'attenzione di tutta la mattinata l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù eccomi sono la serva del Signore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù e il verbo si fece carne Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù prega per noi Santa Madre di Dio preghiamo infondi nel nostro spirito la tua grazia oh Padre tu che all'annuncio dell'angelo hai ricevuto ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore benediciamo il Signore buon pranzo grazie a tutti 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 grazie a tutti